Scelta di campo. Diciamo che ha un doppio significato. Il primo è che io sono un uomo di sport e quindi per me il campo ha un significato importante. Il secondo è che vorrei che chi mi vota facesse veramente una scelta di campo per quello che posso rappresentare poi una volta eletto in Europa all'interno del movimento europeo popolare. Io mi occupo di terzo settore, mi occupo di sport, mi occupo di identità di genere, di pari opportunità. Credo che tutte queste cose necessitano di una scelta di campo per essere votato. Chi condivide queste tematiche, chi le sente proprie, chi ritiene che queste tematiche possano effettivamente dare un contributo positivo al miglioramento della società civile, allora a questo punto può scegliere di votarmi e quindi fare una scelta di campo. La differenza che c'è fra uomini e donne è notevole ed è una situazione che va riportata a livelli di parità. Dal punto di vista delle retribuzioni, per esempio, delle donne rispetto agli uomini, rispetto alle opportunità che le donne hanno e devono avere rispetto agli uomini, la possibilità che le donne devono avere di poter scegliere tranquillamente quando fare un figlio, ad esempio, senza essere condizionate dall'attività lavorativa, perché la parità di genere è un elemento di civiltà nel mondo, lo deve essere ancora di più in Europa. Attraverso il terzo settore direi che ci sono tutte le condizioni, tutti gli elementi affinché si metta in moto proprio un processo culturale tale da rendere consapevoli le popolazioni giovani rispetto alla loro vita futura. È chiaro che meglio si potrebbero queste politiche esplicare se da parte della comunità europea, da parte dell'Europa tutta, che ci fosse un intervento massivo nei confronti di queste tematiche, e supportando quelli che poi sono gli attori principali che mettono in campo le strategie necessarie affinché la sensibilità abbia la possibilità di espandersi. In Europa guardano il modello del terzo settore italiano come un modello estremamente positivo. Ecco, se quel settore fosse veramente supportato, anche da specifici finanziamenti, io credo che potrebbe diventare nell'Europa tutta lo strumento attraverso il quale ancora di più sensibilizzare e disseminare questo nuovo modo di intendere la vita e questo nuovo modo di pensare.